Una volta installato il campo, in che modo Italian Paddle supporta il circolo? Italian Paddle può supportare il circolo con servizi a 360 gradi, che vanno dall'organizzazione di eventi, al merchandising, alla formazione dei maestri e tutta una serie di servizi correlati che si possono sempre richiedere in sede tramite specifici incontri. Grazie